eravamo appena fuori di Rouen e stavamo andando di buon trotto verso Jumies il callessino attraversava di corsa la pianura poi il cavallo attraversò al passo la salita di Cantelot era uno dei più splendidi panorami che ci siano al mondo dietro a noi Rouen la città delle chiese dalle guglie gotiche minuziosamente scolpite come Ninno Lieburnei di fronte Sansever il sobborgo delle fabbriche che innanza al cielo mille ciminiere fumanti proprio di fronte alle mille sacri cuspidi della vecchia città qui il pinnacolo della cattedrale la cima più alta dei monumenti umani e là la pompa d'incendio del fulmi la sua rivale quasi altrettanto smisurata che è più alta di un metro rispetto alla maggiore piramide egiziana la cenna si snodava come una serpe davanti a noi cosparsa di isolotti orlata sulla destra di bianchi dirupi sormontati da foreste e a sinistra da praterie immense confinanti verso il fondo con un'altra foresta di tanto in tanto grandi navi ancorate lungo le rive del vasto fiume tra enormi bastimenti a vapore andavano uno dopo l'altro verso le havre mentre un rosario di piccole navi un tre alberi due golette e un brick risalivano la corrente verso Sguan trascinate da un minuscolo rimorchiatore che vomitava una nube nera di fumo il mio compagno era nato lì non degnava neanche di un'occhiata il meraviglioso paesaggio ma seguitava a sorridere come se tenesse dentro di sé una risata di felicità all'improvviso esclamò adesso vedrete qualcosa di buffo la cappella del maestro Mathieu è proprio un capolavoro caro mio non guardai stupito lui continuò sentirete un profumo normanno che vi rimarrà dentro il naso maestro Mathieu è il più tipico normanno di tutta la provincia e la sua cappella è una delle meraviglie del mondo c'è poco da discutere ma prima è necessaria qualche parola di spiegazione Mastro Mathieu chiamato anche Mastro Bumba è un ex militare un sergente maggiore che ha fatto ritorno al suo paese natio in proporzioni perfette ci sono in lui la millanteria del vecchio soldato e la furberia maliziosa del normanno tornato al paese grazie a cospicue protezioni e alla sua incredibile diplomazia è riuscito a diventare custode di una cappella in cui sono avvenuti miracoli una cappella prodotta dalla vergine frequentata per lo più da ragazze che sono rimaste gravide lui ha ribattezzato la meravigliosa statua che è lì come la madonna incinta e la tratta con burlesca familiarità non priva però di rispetto ha ideato e fatto stampare una preghiera speciale per la sua madonna questa preghiera è un capolavoro di involontaria ironia di spirito normanno dove allo scherzo si unisce sempre un po' di paura del sacro la paura superstiziosa di qualche misterioso influsso non crede ciecamente nella sua persona ma un pochino sì per prudenza e la tratta anche bene per politica ecco l'inizio della straordinaria preghiera o nostra buona madre vergine maria patrona naturale della ragazze gravide in questo paese e in tutta la terra proteggete la vostra serva che ha sbagliato in un momento di oblio la supplica termina così e soprattutto non vi dimenticate di me assieme al vostro santo sposo e intercedete verso dio padre affinché mi faccia trovare un buon marito come il vostro la preghiera è stata proibita dal clero locale ma lui la vende sotto banco sembra che sia a salutare per quelle che recitano con vero fervore insomma parla della beata vergine come farebbe del suo padrone un cameriere di qualche gran principe al corrente di qualsiasi intimo segretuccio conosce una gran quantità di storielle divertenti sopra di lei e quando ha bevuto le racconta agli amici ma a voce bassa vedrete da voi poiché gli introiti che gli procura la patrona gli parevano pochi ha annesso alla vergine principale un piccolo smercio di santi ce li ha tutti o manca poco e poiché nella cappella non c'era abbastanza posto allora li ha stipati nella legnaia da dove a richiesta dei fedeli li tira fuori ha scolpito da solo queste statuette di legno e le ha dipinte tutte di verde l'anno in cui dovette ridipingere le persiane sapete che i santi guariscono la gente dalle malattie ma ognuno ha la sua specificità e non debbono essere commessi né sbagli né confusioni i santi sono gelosi l'uno dell'altro proprio come gli attori di secondo piano a scanso d'errori le vecchiette consultano Mathieu per il mal d'orecchi qual è il santo giusto? santosimo va bene ma anche san panfilo non è male non è tutto poiché non c'è il tempo che manca a Mathieu lui beve ma beve da artista così di gusto con tale esperienza che ogni sera regolarmente è un po' alle grotto è brillo ma lo sa e lo sa tanto bene che ogni giorno nota il grado preciso della sua ebbrezza questa è la sua occupazione principale la cappella viene dopo e così ha inventato sentitemi bene e non scoppiate da ridere ha inventato lo sbronzometro lo strumento non esiste ma le annotazioni di Mathieu sono così precise quanto quelle di un matematico lo si sente dire spesso lunedì ho passato i 45 oppure stavo tra 52 e il 58 o anche ne avevo in corpo da 66 a 70 o infine caspita credevo d'essere a 50 e adesso mi rendo conto che sono a 75 non sbaglia mai afferma di non essere mai arrivato a 100 ma poiché ammette che dopo i 90 le sue osservazioni non sono più tanto precise allora non si può essere sicuri di quel che dice quando Mathieu confessa ad essere sopra i 90 potete essere certo che ha preso una bella sbronza in queste occasioni la Meli la sua consorte un altro tipo meraviglioso va su tutte le furie aspetta sulla porta di casa e quando lui fa ritorno si mette a urlare ah sei tornato sudicione maiale ubriacone che non sei altro allora Mathieu che ha smesso di ridere la fronteggia e risponde con autorità Meli non è il momento delle chiacchiere aspetta domani e se lei continua a sbraitare e si avvicina e sussurra chiudi il becco sto sui 90 non mi controllo più bada che comincio a suonartele e allora Meli se la svigna se il giorno dopo lei cerca di riprendere l'argomento lui copia ridere in faccia e dice piantala ne abbiamo parlato anche troppo adesso è passata niente di male per me finché non arrivo a 100 se supero quel limite puoi pure punirmi come vuoi parola mia eravamo arrivati in cima alla salita la strada si inoltrava nella suggestiva foresta di Rumar l'autunno il meraviglioso autunno mescolava oro e porpora con le ultime verzure ancora in vita come se dal cielo fosse pievuta attraverso lo spessore delle foglie qualche goccia di sole fuso attraversammo Duclair poi anziché proseguire in direzione di Jumiege il mio amico svoltò a sinistra e si immerse in un bosco ceduo dopo aver preso per una via laterale quasi subito scoprimmo dalla cima di una montagna la bellissima vallata della Senna e il fiume tortuoso che si snodava sotto di noi a destra una minuscola costruzione col tetto di Ardesia sormontata da una specie di piccolo campanile alto come un parasole si addossava a una graziosa casetta dalle persiani verdi rivestite di rose e di caprifoglio un vocione si mise a gridare ecco i miei amici Mathieu fece la sua comparsa sull'uscio era un uomo sui sessanta magro, col pizzo e lunghi baffoni bianchi il mio compagno gli strinse la mano mi presentò e Mathieu ci fece entrare in una fresca cucina che fungeva anche da salotto il mio appartamento non è fine ma non mi piace star lontano dai fornelli i tegami mi fanno compagnia e poi rivolgendosi al mio amico perché siete venuto di giovedì? lo sapete che è il giorno di consulto della mia patrona oggi non posso uscire corse alla porta e mandò una specie di muggito spaventoso MELI! tale da far trassalire ai marinai dai battelli che stavano risalendo o scendendo il fiume in fondo alla vallata MELI non rispose allora Mathieu fece maliziosamente l'occhietto ce l'ha con me sapete per il fatto che ieri notte ero vicino a novanta il mio amico scoppiò in una risata novanta Mathieu! e come avete fatto? lui rispose ora ve lo dico l'anno scorso ho fatto solamente una tonnellata e quattro di mele Calville di più non ce n'era ma per il sidro è quanto c'è di meglio e così me ne sono fatto una botte e ho spillato ieri a dire la verità è un nettere me ne saprete dire qualcosa c'era Pulit con me e beviamo un sorso poi un altro senza sentirci mai sazi si andrebbe avanti così per tutta la giornata successiva e giù e giù a un certo punto sento un freddo languorino di stomaco dico a Pulit e se ci facessimo un goccetto d'acquavite per tirarci su lui approva però l'acquavite ti mette il fuoco in corpo e allora uno deve ritornare al sidro ed ecco che di fresco in caldo di caldo in fresco mi accorgo d'essere sui novanta Pulit sfiorava i cento s'aprì la porta fece la sua comparsa Melì e prima ancora di dirci il buongiorno brutta porco se eravate a cento tutti e due allora Mattia fece l'offeso non lo dire Melì non lo dire a cento non sono mai arrivato davanti all'uscio di casa sotto due tigli ci offrirono una colazione squisita accanto alla cappellina della Madonna incinta proprio di fronte allo sconfinato paesaggio e Mattia ci raccontò con una malizia mista di inattesi atti di fede in verosimili storie di miracoli avevamo bevuto parecchio di quel sidro prelibato agrodolce fresco e inebriante quel sidro che lui preferiva a qualsiasi altra bevanda e stavamo fumando le pipe a cavalcioni delle sedie quando si fecero avanti due donnicciole erano vecchiotte rinsecchite mezze gobbe dopo averci salutato domandarono San Bianco Mattia ci strizza l'occhio e disse adesso ve lo vado a prendere e sparì nella legnaia vi restò per più di cinque minuti poi riuscì col viso afflitto levando le braccia non so più dove sia non lo trovo più eppure sono sicuro che c'è si mise le mani davanti alla bocca come a imbuto e muggì di nuovo Melì nel fondo del cortile gli rispose la moglie che c'è dove si è cacciato San Bianco nella legnaia non lo trovo più allora Melì dette questa spiegazione non sarà quello che hai preso l'altra settimana per tappare il buco della gabbia dei conigli Mattia trasalì pulmini a sette deve essere proprio quello e disse alle donne venite con me e se lo seguirono e noi facemmo altrettanto trattenendo le risa e infatti San Bianco ficcato nel terreno come un paletto macchiato di fango e di escrementi teneva fermo uno degli angoli della gabbia dei conigli appena l'ebbero visto le due vecchiette caddero in ginocchio si fecero il segno della croce e cominciarono a mormorare Avemarie Mattia si precipitò per aiutarle un momento siete in mezzo al fango non vedete adesso vi porto un po' di paglia andò a prendere la paglia e la dispose come se fosse la base di un inginocchiatoio poi guardò il suo santo infangato nel timore che il suo commercio ne scapitasse e seguitò adesso gli do una pulita prese un secchio d'acqua una spazzola e si mise a lavare con energia il pupazzo di legno mentre le due vecchie continuavano a pregare quando ebbe finito disse ecco è pronto e ci riportò a bere un altro sorso mentre accostava il bicchiere alle labbra si fermò e con un tono lievemente confuso disse che volete quando ho messo san bianco dai conigli credevo che non ci avrei più ricavato un soldo erano due anni che nessuno me lo chiedeva ma i santi vedete non passano mai di moda beve ancora e concluse buttiamole giù ancora un goccetto con gli amici bisogna arrivare almeno a 50 e adesso siamo appena a 38